Musica Sono Fabrizio Meloni, sono il primo cronetto solista del teatro alla Scala di Milano e siamo qui per raccontarvi un po' di cose sul circuito musica. La possibilità di scambiare opinioni, di entrare in dibattiti, di parlare di cultura basta affacciarsi sul circuito musica per avere i profili dei musicisti che hanno prima avuto bisogno di una costruzione, di un sito e poi questa idea più ampia, più grande che credo che raccolga un po' il pensiero, il bisogno di quello che hanno gli studenti in questo momento di avere sotto mano uno strumento estremamente veloce e efficace per entrare subito in un profilo, in una realizzazione di progetto e anche di curiosità. Musica 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 Musica